L'obiettivo del tavolo tecnico insediato sia nei giorni scorsi e composto da dirigenti del comune e da tecnici di Arte e Asl, così come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Pescara, sarà quello di trovare soluzioni in caso di sforamento di rumore nella zona centrale della Movida, dando applicazione al piano antirumore e alle proposte avanzate e approvate dalla Giunta. Tempi e modi dei controlli, da mesi al centro del dibattito politico cittadino, sono ancora da stabilire, ma intanto il sindaco Carlo Masci ribadisce la necessità di trovare soluzioni ai problemi contemperando le esigenze di tutti. C'è l'esigenza delle attività, c'è l'esigenza di chi ha diritto al riposo, che è un diritto costituzionalmente garantito, il limite è l'equilibrio tra queste due posizioni attraverso un comitato tecnico che verificherà le varie situazioni. E quando partiranno i controlli? Il tavolo tecnico è già operativo dal momento in cui è stato creato, adesso dovrà riunirsi, penso che lo farà dopo ferragosto, stabilirà quando fare i controlli. I controlli sono stati richiesti da tutti prima di attuare eventuali misure correttive. L'hanno richiesti tutte le forze politiche perché i controlli che erano stati fatti, da cui poi è partito l'iter per il piano antirumore, erano controlli fatti negli anni scorsi e quindi tutti hanno richiesto prima di attuare eventuali misure di ricontrollare la zona per verificare se i parametri fossero meno rispettati. E sulle richieste avanzate dagli esercenti che rispediscono al mittente eventuali costi aggiuntivi legati ai controlli e ai pannelli antirumore da installare all'interno dei locali, il sindaco Masci puntualizza. Sulle spese eventualmente da sostenere, questo dovrà deciderlo comunque l'amministrazione tenendo conto che l'amministrazione gestisce soldi dei cittadini di Pescara. Se ci sono delle attività che provocano dei rumori che devono rientrare nei limiti, le attività devono organizzarsi affinché questi rumori rientrino nei limiti. Poi ovviamente il discorso è aperto nel senso che dove è possibile l'intervento del Comune, certamente ci sarà l'intervento del Comune, ma è chiaro che qui sono attività private che devono organizzarsi affinché i rumori rientrino nei limiti per permettere a tutti di poter svolgere l'attività ma nello stesso tempo poter vivere in casa come prevede la normativa costituzionale relativa ai rumori.